Sto passando lì pure, e tutto quanto... Io so che come si ritornava il sindaco e di chi ne deve avere subito la coscienza di metterlo a posto. E poi è un periodo adesso che... ...e incontrano un pericolo... Guardate qua come cupo, sa? Quest'asse è importante... ...e incontrano un pericolo... Guardate quale, quante spine selvagge sono intorno al torrente... Grazie signor Presidente, speriamo che... ...un attimo che concludo... ...la cosa è inaccettabile... ...han detto anche che il 99...